Si può dire che rischiamo di rimetterci il culo perché la politica sta agendo troppo lentamente e non va bene perché noi vogliamo un futuro. E questa cosa signori, questa piazza, lo scendere in piazza, questa cosa bellissima che stiamo facendo oggi è anche la cosa più potente che possiamo fare da questo politico perché questo fa cambiare idea perché vedere migliaia di persone in piazza a dire che il nostro futuro ci interessa, questo fa cambiare idea, quindi facciamo un altro uomo fortissimo. Ognuno di noi, ognuno di noi può fare la piccolazza e se ci sono persone tra voi che la pensano come me, la pensano come noi, unitevi a noi, unitevi a Fragli, venite a parlare, venite a parlare con noi, con questa madrietta bellissima e possiamo darvi anche una madrietta bellissima con questa, unitevi a Fragli, sono un gruppo bellissimo, siamo simpaticissimi, facciamo degli eventi fighissimi, tutto per salvarci il culo, allora venite con noi, venite a parlare con noi, unitevi a parlare con noi, diventate parte attiva perché è un'energia di ciascuno di voi, è un contributo fondamentale per questa volta e quindi facciamo l'ultimo urlo, buona crisi climatica a tutti, adesso vorrei chiamare qui sul palco mia sorella per fare un coro, abbiamo forse imparato tutti insieme, un applauso anche a mia sorella, facciamo un coro bellissimo, super facile, adesso vi insegniamo, siete carichi? Ho vi ho sentito bene, siete carichi? Ok, ok, allora cominciamo! Ho potato solo P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O E adesso stendiamoci un palco al tempo che è scompiuto, ad esempio Giulia, Simon. Beh, se siete qui non c'è molto da dire. Però quello che dico io, che vorrei dire anche a voi, è che appunto a chi è già qui non c'è molto da dire. A chi non è qui, avete un sacco di cose da dire. A chi è rimasto nelle classi, a chi vi ha preso in giro perché eravate con un cartello di largo formentone il venerdì pomeriggio. Avete ragione voi! Siete voi che avete capito qualcosa e loro non lo vogliono capire. Perché nessuno è troppo stupido per capire che c'è un problema. Ma la gente pesa un culo. Si può dire culo? Si può dire culo! Se avete dei sogni, se volete avere dei figli, farvi una famiglia, se vi piace andare in montagna, avete già un motivo valido per essere qui e dovete esserci! Abbiamo bisogno di azioni urgenti, abbiamo bisogno di gente consapevole, gente che si rende conto che se la tua casa è in fiamme non vai a bere un caffè al bar ma spegnete l'incendio! E poi ci hanno detto, sapete, guarda un sacco di volte, ah, ma siete in piazza con il Covid, che incoscienti! Beh, lo sanno anche loro, non lo vogliono credere, ma lo sanno anche loro. Se non arginiamo la crisi climatica, ne avremo due di Covid. Tre, quattro, cinque, tre volte! Siamo tutti questi! E noi non ne vogliamo più! E che trovo, domani, vogliamo un futuro! Vediamolo! Ok, signore e signori, Giulia Bigazzi! Mich! Mich! Io Mich! Signore e signori, un altro super guest! Bisogna alternare perché è una cazzo di festa, quindi ci serve della cazzo di musica! E prendiamo solo i cazzo di migliori! Solo quelli che vincono qualsiasi cosa! Prima abbiamo preso i raschi brazi dal questioneratorio, adesso abbiamo preso quello che ha appena vinto un concerto, un concorso, di tutta la maltropia per tutta Brescia! Signore e signori, con due secondi, un bel applauso per Mich! Prova, 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 prova! Grazie! Grazie! Grazie!